Taranto, San Vito, Viale Ionio e ci troviamo dinnanzi al fianco di un'area privata abbandonata che giace come vedete nel pieno degrado completamente sovrastata dalle erbacce. Pare si dice che appartenga a qualche persona dell'amministrazione comunale, dicono qualche alto rappresentante, ma non è questo il problema, il fatto è che l'area va bonificata e recintata. Ne parliamo con Irene Lamanna, presidente dell'associazione Taranto Turismo. Sì, infatti Vox Populi racconta proprio questo, non sappiamo se è vero, questo sarebbe da verificare. Chi sia il soggetto e se è vero, ma al di là di questo. Al di là di questo è improponibile una faticenza di questo genere in una località come la nostra che appunto accoglie giornalmente turisti, business ed estate anche gli esur, oltre che è pericoloso e illegale lasciare così allo sbando e allo sbaraglio un terreno di una così grande metro quadratura. Ci terreno ancora una volta a sottolineare la differenza tra la proprietà privata, sulla quale dovunque dovrebbe vegliare l'amministrazione pubblica, perché l'amministrazione pubblica deve vegliare affinché il proprietario tenga pulita, responsabilità nel vigilare, e i terreni che invece sono a pochi metri di qui della Marina Militare che sono recintati e sempre puliti, quindi la Marina Militare ci regala sempre ordine e disciplina. Purtroppo l'amministrazione pubblica no. A questo punto, l'avete visto, questa zona va, lo ripeto, va bonificata, va tagliata l'erba e va recintata, a maggior ragione se, come dicono i maligni, quest'area apparterebbe a qualcuno dell'amministrazione comunale. Vedremo.